Ciao, eccomi qui al Tempio d'Oro, sono sempre in Sri Lanka e qui puoi vedere la statua del Buddha. Questo è un tempio dove vengono le persone sia per rendere onore a Buddha che per visitarlo. E qui ci sono i fiori che ho acquistato per fare un'offerta al Buddha. Lì puoi vedere, adesso vediamo se riesco a fartelo vedere bene, c'è lo stupa. Ecco, anche questo è d'oro, lo puoi vedere sullo sfondo. Ed è una costruzione che serve proprio per fare un rito dove tu hai la possibilità di chiedere delle cose al Buddha e poi compiendo alcuni giri attorno allo stupa in senso orario e pensando, continuando a pensare e a fare questa richiesta al Buddha, il Buddha probabilmente ti accontenterà. L'energia è fantastica, oltre che la vegetazione, perché qui c'è una vegetazione meravigliosa, si sta veramente molto molto bene, la temperatura è molto alta e l'umidità, il tasso di umidità è veramente elevato. Comunque è veramente un luogo molto importante a livello vibrazionale. Spero di avere un'occasione di fare un lavoro, come ti ho accennato prima, e di condividerlo con te, sarà veramente un piacere. Ciao, a dopo!